Questo programma è offerto da... Inquadrala! Inquadrala! Sta arrivando! Ce l'ho! Eccola lì! Le Bardembellas sono un improbabile gruppo di non uomini che non si sa come è riuscito a vincere qualcosa che non fosse una gara culinaria. Guarda che ti sento! Finito il college ora spiegano le ali per spiccare il volo. Delizio di Playa Papaya per la vita un po' più Gaia? Augurandosi che non precipitino come tutti ci aspettiamo. Mi piace quello che sto facendo adesso. Voglio diventare veterinaria! Inculo la balena! Dove si trovano ora? Io sono Ciccemi Winehouse e sono pronta a spaccare. Mi sono licenziata. Ti hanno licenziata? No, è una mia scelta, va bene? Non fare la melodrammatica! Darei qualunque cosa per cantare ancora con voi. Qualunque cosa! Ragazze, ogni anno l'USO organizza un'esibizione per sostenere le truppe in Europa. E se riuscissi a farci invitare? Beh, improvvisamente ho del tempo libero, quindi... Facciamolo! Non abbiamo mai sfidato gruppi che suonano anche degli strumenti. Che si fa? Oh, cantate le canzoni degli altri. Fate il karaoke. Karaoke? Karaochine. Io sono Calamity, lei è Serenity, Veracity e Charity. Se mi dissi a voi io sarei obesity. Un altro giorno sul palco per le Bellas. Ecco la loro caduta impicchiata. Senza paracadute. Ma è il vuoto assoluto. Sei proprio sicura? Dimmi, ti ho mai delusa? Ogni volta. Cosa? Sei sempre inaffidabile. È uno dei tuoi tratti distintivi. Dimentichi le volte che sono stata grandiosa. Accaparriamoci la vittoria. Sì! Vi amo, mie nerd! Non avete dignità. Non vogliamo avere niente a che fare con la dignità. Capito, cretiniti? Queste ragazze sono braccia rubate all'uncinetto. Già. Applausi della macchina Seilississieza. No, zona gallante. Sì! Grazie a tutti.